Una cinquantina di carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Davide Acquaviva in collaborazione con il settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano hanno dato esecuzione questa mattina ad un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di quattro cittadini di etnia Rom pluripregiudicati domiciliati presso il campo nomadi di Arzano in provincia di Napoli ritenuti responsabili a vario titolo di furti aggravati ai danni di capannoni industriali in tutto il territorio nazionale deferendone in stato di libertà altri tre per i medesimi reati uno dei destinatari degli arresti di oggi considerato il capo del campo nomadi di Arzano detenuto presso la casa circondareale di Avellino era evaso durante i disordini della cosiddetta rivolta del carcere di Foggia nel mese di marzo in piena emergenza covid e successivamente catturato si tratta della conclusione dell'inchiesta denominata Ombra che ha portato a smantellare un'organizzazione criminale di Rom dedita a furti e danneggiamenti in diverse zone industriali italiane l'indagine condotta nell'inverno del 2019 dalla sezione operativa della compagnia di Sala Consilina è stata svolta anche mediante l'ausilio informativo dell'ufficio dell'esperto per la sicurezza presso l'ambasciata italiana in Romania del servizio per la cooperazione internazionale di polizia il modus operandi adottato per organizzare ed eseguire in orario notturno i furti aggravati era caratterizzato dall'individuazione di capannoni di aree industriali che si trovavano a ridosso delle autostrade A1 del Sole e A2 del Mediterraneo utilizzate come agili, acceleri, vie di fuga penetrandovi mediante scardinamento delle serrande con autovetture usate come arieti, flex portatili caricando l'area furtiva a bordo dei veicoli industriali e automezzi illecitamente prelevati in loco le investigazioni hanno consentito di accertare la responsabilità degli indagati in ordine alla commissione di complessivi 29 episodi predatori consumati presso diverse zone industriali del Lazio e nella provincia di Salerno nello specifico ad Atena Lucana, Sala Consilina, Polla e in provincia di Potenza a Lauria aventi ad oggetto attrezzi da lavoro, pneumatici, matasse di rame, generi alimentari pregiati e materiale informatico del valore complessivo di circa 300 mila euro stroncando una fiorente attività economica idonea ad alimentare i mercati cosiddetti paralleli i carabinieri hanno recuperato e restituito ai legittimi proprietari 18 veicoli illecitamente sottratti per un valore di circa 150 mila euro nel corso delle indagini sono stati arrestati in flagranza di reato sei soggetti tra cui un catturando